Ha reagito allo sfratto che stava subendo, colpendo con una sedia i due carabinieri intervenuti sul posto insieme all'ufficiale giudiziario. È accaduto ieri pomeriggio alle 16 a Castelfranco, protagonista un anziano di 76 anni residente in via Poisolo. I carabinieri del Norma sono dovuti intervenire perché il pensionato si stava rifiutando di lasciare l'alloggio. Davanti agli uomini in divisa non solo non ha ceduto, ma afferrata una sedia ha colpito i carabinieri. Entrambi hanno poi dovuto farsi medicare, mentre l'anziano è stato denunciato a piede libero per violenza a pubblico ufficiale. Ore di apprensione per le condizioni di un anziano di 73 anni di Ormelle, che questa mattina intorno alle 8.45, probabilmente per un malore, è caduto da un carro agricolo a San Polo di Piave, riportando gravissimi traumi. L'incidente è in lungo via ai comuni. L'anziano, che stava raccogliendo ciliegie, si è improvvisamente sentito male, cadendo a terra e procurandosi un trauma cranico e lesioni sul corpo. Il 73enne è stato trasportato in elicottero al caffoncello, a preoccupare i medici il fatto che non riusciva a muovere le gambe. Rogo alla Chiarie Forti di Silea, la deputata del Partito Democratico Floriana Casellato, ha presentato un'interrogazione parlamentare a risposta scritta rivolta al ministro dell'interno Angelino Alfano, in cui chiede che si faccia al più presto chiarezza sul rogo. Doloso, secondo i vigili del fuoco, intervenuti la sera del 7 aprile, anche se non erano poi state trovate tracce di benzina. Quel che è certo al momento è che i danni causati dall'incendio hanno fatto calare la cifra a cui l'ex mulino è stato messo all'asta. La stessa soprintendenza ha chiamato il municipio chiedendo la documentazione relativa all'immobile. Carabinieri e guardie venatorie a caccia di un giovane toro che ieri intorno a mezzogiorno è fuggito dal recinto dell'azienda agricola di Campomolino a Gaiarine, a cui apparteneva. L'animale, imbizzarrito dal peso di 450 kg, è scappato da via Maredana. Immediate le ricerche, dal momento che il toro poteva diventare aggressivo. I militari di Codogne l'hanno rintracciato nei pressi del rio Albina e lì si è reso necessario abbatterlo.